Alessia e Enrica presentano i pezzi storici dell'Altoscuola 2000 di Mesola, recuperati dal vecchio magazzino. Il recupero di queste parti meccaniche fatte da Agno è fondamentale per la preparazione delle patenti superiori e il conseguimento CQC. Vedere il movimento di queste parti con diverse colorazioni e individuarne l'esatta situazione, non più possibile nelle autovetture moderne, tutte chiuse, diviene essenziali per rispondere correttamente agli attuali quiz non semplici da interpretare. E giù a pompare sarebbe meglio fare all'amore, pompa di qua e pompa di là. Se almeno passassero i carabinieri, le guardie e i pompini, oppure i pompini, una mano ciascuno la potrebbero dare. Alessia e Enrica attendono le vostre iscrizioni all'autoscuola 2000 di Mesola. Destinata a diventare l'Università delle Scuole Guida.